Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo delle diatomee. Osservate appoggiando una telecamera ad un microscopio. Quelle che vediamo qui attraverso un microscopio arrivano da Oamaru in Nuova Zelanda e sono state preparate dal divulgatore scientifico e microscopista Stefano Barone. Potete vedere anche il suo sito per saperne di più www.diatomshop.com Torniamo al nostro video. Le diatomee risalgono al Cretaceo, quindi sono molto ma molto antiche. Svolgono un ruolo fondamentale nella produzione dell'ossigeno. Si stima che circa un terzo dell'ossigeno prodotto ogni giorno nel mondo sia dovuto all'azione di queste alghe negli oceani, nei mari. Un altro importante utilizzo delle diatomee è quello di bioindicatori. Le diatomee vengono utilizzate per valutare la qualità delle acque di fiumi e laghi. In base alla quantità e al tipo di atomee che si osserve in un campione al microscopio si rileva la qualità delle acque. Il video prosegue. Abbiamo utilizzato due diversi vetrini e l'osservazione è stata fatta anche cambiando l'illuminazione. Grazie per l'attenzione. Vi aspettiamo per il prossimo nostro video e se volete potete iscrivervi al nostro canale. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.